e buon salve ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo un'altra volta a giocare nei laboratori del trogiolo perché perché sono tornati e hanno aggiunto una nuova modalità che da qua realtà non si leggere che andremo a vedere direttamente giocandola l'ho già provata quindi bene o male ho capito come funziona e premetto che sto giocando con doppio candone portatili perché devo fare il decoro per il corpo del trogiolo mi chiede di fare le kill precise con i candoni portatili quindi conoscete il mio talento con i candoni portatili vedremo spero di giocare abbastanza bene ma vedremo cosa riusciamo a fare ok allora siamo in altra delle fiamme la modalità si chiama vigilanza anche se non hanno fatto l'audio per che dica vigilanza appunto quindi è controllo perché bene o male la modalità di base è quella di controllo ovvero ci sono sempre le tre zone però siamo 4v4 quindi sarà una modalità competitiva cosa che condivido a pieno se la metteranno ovviamente dicevo la modalità di base è quella di controllo per quale motivo perché vedete che in alto è scritto progresso 0% 0% perché l'obiettivo di questa modalità consiste nel avere sempre o perlomeno il più possibile le zone di vantaggio perché prendendo avendo la zona di vantaggio avendo quindi due zone su tre riusciamo a riusciamo a far aumentare il nostro progresso e quindi a guadagnare punti una volta che si arriva al 100% di progresso la partita finisce e non ho ben capito se poi c'è un altro round oppure perché non l'ho finita la partita che ho fatto ovviamente vedete che quando abbiamo la zona di vantaggio saliamo ogni secondo saliamo di una percentuale e essenzialmente questa è la modalità devo dire che ci sta carina perché comunque come obiettivo ha essenzialmente quello di difendere le zone cosa che diciamo è l'obiettivo principale che doveva essere anche in controllo però qui è più importante diciamo perché se non difendiamo le zone se non difendiamo le zone non perdiamo la percentuale quindi non ha molto senso andare a conquistare di continuo come anche in controllo una modalità che penso in competitiva ci starebbe veramente veramente molto bene perché bisognerebbe dividerci in due fondamentalmente per per tagliare le zone siamo 43 a 13 stanno nulla la zona di vantaggio e stiamo riconquistando ok bene essenzialmente in in competitiva questa modalità la vedrai molto come una divisione una difesa delle zone cosa secondo me è una modalità che potrebbero aggiungere che sarebbe molto carina progresso interrotto perché quelli stanno conquistando c ok abbiamo a quindi adesso dobbiamo semplicemente difendere questa la cosa divertente mi piace parecchio parecchio ci sta perché ci si divide bene il problema è che ovviamente il diciamo lavoro deve essere reciproco nel senso non è che diciamo che è una modalità in cui è difficile carriere perché se stiamo tutti su una zona probabilmente c'è quasi sicuramente abbiamo vinto questo round ok ok si è a round quindi abbiamo vinto questo round dicevo se stiamo tutti quanti su una zona è un po' difficile poi andare a cioè è facile che ci conquistino l'altra zona invece se stiamo due e due bisogna cercare di essere equilibrati altrimenti una zona comunque ce la conquistano 40 a 0 vedete stiamo giocando abbastanza bene siamo due e due che proteggono le zone il che ha senso ah no questo qua non ha capito che bisogna proteggere le zone però questi mi pare che siano molto più concentrati su b che su c 98 99 e 100 e anche il secondo round è andato ok sono tre round da vincere non so se avendo tre zone conquistate proviamo un attimo se avendo tre zone conquistate ci ci il progresso aumenta più velocemente ho un po' sprecato il pistolero però vabbè giusto per l'amore della scienza vediamo un po' abbiamo ah ok se conquistiamo tutte e tre le zone vinciamo automaticamente carina come cosa molto carina quindi bisogna dividersi parecchio ok ci sta come modalità veramente mi piace parecchio da mettere in modalità competitiva ci starebbe parecchio da accompagnare a da accompagnare la detonazione e la sopravvivenza potrei anche darmi questi due punti in più eh quindi ragazzi la modalità è molto molto carina io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che non conoscete che non conoscete che c'è la tallissima seguite anche su instagram e come ogni video vi lasciamo qui sotto in descrizione anche da bellissimo nuovissimo fattestissimo sito e detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao io sono un gaudo e la tua luce è mia ciao